e ben ritrovati con questo nuovo episodio di XCOM TABUTAR io ho letto a sinistra troppe nemiche da poco ma non l'ho fatto quindi mogli oggi siete in quante nostra missione dieeeh 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 nemici ingaggiati! Preparatemi! ma che diavolo! ah perché c'è quello che mi muto davanti c'è anche quello che mi muto davanti che non per di tanto qua e lo scopriamo accessorio si è morto ok io vado! ed erano infatti al sequenza particolare qui in vivo stanno avanzando! quei bazzardi sono corassati! allora mmm fantasma sarebbe da sì colpitelo duramente! abbattetelo! prendo la mira! dobbiamo far fuori lui così schiero un drone di supporto! prendo la mira! ok perfetto ora se se riusciamo a pulirli penso per io sarebbe anche bello schiero un blob! che la cosa fine la fiera abbia un po' che interesse la tua mente è mia! lo teoricamente li siamo contrattati concentratemi su quel bersaglio! sto buttando! ci siamo quasi! a redizione! scudi! ahah! ah! 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 vi sono scelta proprio qui da! attaccare! da! che sono il mirino! queste i droni sono decisamente utili comandante tutto bene! questo dovrebbe aiutarci! stanno arrivando! uno in meno! anche una cosa che ho dedi che è una cosa che è abbastanza possibile scappostati a prezzo spostati e grazie concentratevi su quel bersaglio sollevamento attento spavate è di un problema attenzione oh merda si stanno avvicinando scudi sfondati colpiamolo è ancora vivo ed è qui la simpo che arriverà il ovviamente metà ovviamente parlando ne sta creando degli altri quindi quando uno dice sta creando degli altri diciamo che gli stavano che parte tecnocomando ah ok c'era perché c'era quello lì ok abbattetelo abbattetelo stavo puntando tu tu in primi stavo a riparo mi piazza una torretta qui procedo piazzate la torretta un aiuto gradito attaccare che mi piazza piazzate una mina e mi manecco blob attivo li vedo preparatevi arma in azione in apiazzata un drone perfetto no c'è il cicchia fastidioso concentratevi su quel bersaglio farò verso il bersaglio granata sono a terra non resisterò a lungo sto recuperando se c'è il ganger quindi forse non ce l'abbiamo chiamo un drone stanno mantenendo il fronte ecco qua qui quindi è benissimo siamo troppo esposti servono ordini piazzate una mina lì mina piazzata attaccare sparo sul tuo bersaglio tenete giù la testa procedo e io ti userò abbattetelo prendo la mira colpitelo duramente tutti quanti colpi guardate 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 i cicchini sono soffi non neanche ecco ecco ingegnero dov'è mettere assorbire per per l'inacqua più grandi vola 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 per tipo che fa meno danni ai 7 e tutto quanto finisce e peino e un aspetta sono rosso confermato piazza una mitragliatrice lì questo dovrebbe aiutarci questi droni sono decisamente utili uso il controllo mentale abbattetelo questa è la mia idea che è da quella è una brutta posizione capo io voglio te sollevamento sono aiuto e ora se mi risolto il problema concentratevi su quel bersaglio stanateli li allontano piazzate una mina mina piazzata il cielo è al sud ti farò fuori sono ferito mi serve aiuto no tu non sei freddo sei morto sto recuperando schiero un drone di supporto si questo si 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 quanto bella se andare alla cediamo al solito così avere la torreta di cura per una torreta ma è ho fatto il possibile ma erano dannatamente troppi come vi dicevo eri un vecchio testardo Mairon non ci hai fatto arrendere l'umanità sopravvivrà grazie a te e tutto questo è sempre che William Carter ha fatto cazzate ora noi siamo oggi la proposta io resti inoltre posso avere la paura che si disattiva più che altro è sempre che quando possono giochere disattiva quando i miei ci sono sopra carter penso io a questo terminale grazie non lo faccio per te una volta disattivata la barriera saremo nemici assicurati di essere pronto al mio segnale torniamo alla sala principale e abbassiamo la barriera ok lo sport mi spò restate uniti il nemico ci divide non separatevi il nemico vi divide il nemico gli stai veniva la striscia ha determinato la barriera si apre ha funzionato entro non credo proprio non colleterio almeno in realtà non vai da nessuna parte ora vuoi farlo adesso scusa angela sembra che sarai un danno collaterale prima no da questo la dimmi cattivare non ora carter allora facciamo in fretta vuoi davvero costringermi a farlo si lavora con me bel tentativo tesoro ti sto dando un'ultima possibilità per andartene will e lasciarti schiavizzare l'umanità non credo non voglio farti male ma sei un rischio troppo grande esatto proprio come te voi andate pure io lo riporterò sull'avenger non puoi farlo maledizione a te quello che succederà potrei farlo è nuovo perché hai fatto cazzate tanto io ho una pistola no è che è pistola è uscita questa pistola sono sempre stata dalla tua parte Barnes il dottor Weir sta tornando da te prepara la nave per il suo arrivo ricevuto mi preparo all'evacuazione e Barnes Carter è con lui fallo pure salire a bordo si comporterà bene d'accordo e tu cosa farai io chiuderò la partita in tutto ciò loro due non vengono minimamente calcolati quindi la serie segniamo a morire e andiamo a morire la mente pensa che non vengono a morire la tazzo cosa per esserci posso insegnarti a domare il denne avrai tutto il potere e le decisioni saranno soltanto tu anche il lager sarà soltanto fanno per questo nini rotte e iniziamo tutto quanto per partire salvataggio e partiamo posso insegnarti come costruire il tuo mondo la nostra gente vivrà insieme troppo tardi avresti dovuto provarci prima di iniziare questa guerra ogni motivo prima di nucleare di cuttiare la bombarda è una subietta perché tu vuoi controllare il demone tra te la zirò di credo la prima c'è un senso che ho andato i fantasmi che non sono molto fantasmi nessuno controlla la porta di ingresso ma non è amico quanto il tuo esercito fa schifo piazzate una mina lì questo è si sapete cosa vuol dire piazzate la torretta abbattetelo colpitelo duramente attaccare questo è mio chiamo un drone 2 blobb attivo prendo la mira arma in azione fantasia cecchino la tua mente è mia io la simbattino si si questa ragazza è una prima battaglia questa per incidere se è impossibile se è impossibile se è impossibile a lui letteralmente senza essere meglio perché ne affronterebbe 15 spedio si sceglie allora mi arriva spedio si mi arriva sceglie guida l'aiuto il bersaglio era tutta... aspetta, anzi non c'è più io come se ragazzi cammino spaziente del pericolo, cammino, tranquillo, cammino, tranquillo oh ragazzi, l'intravisione non piace, no, un scout, ok seguo sempre il segretario degli scheristi perché sono tra le unità più fasi quanti casseri sono gli scout e te lo ricevuto piazzate una mina mina piazzata nuclearizza quel posto ti prego bombardate quel bersaglio bombardamento confermato intelligente schiero un blob piazza una mitragliatrice lì torretta piazzata, gli scudi sono andati, colpiamolo ora vedete chi cassa concentratemi su quel bersaglio spara lui tu invece concentratevi su quel bersaglio questi droni sono decisamente utili il bersaglio sono notati di scudi sono notati di scudi sono notati di scudi sono notati di scudi sono notati colpiamolo ora a lunga potrebbe essere fastidioso concentratevi su quel bersaglio è mio però si c'è il segretario fa una strage il bersaglio a terra questi droni sono decisamente utili sono dei droni attacchiamolo aiutò e nel gioco dei casi se li sono i droni perchè tu sei qua sopra attaccare sto puntando io credo che si è salvato è il nostro spiro concentratevi su quel bersaglio sto puntando e stanno creando degli altri dietro quel riparo attaccare ricevuto solo in posizione con la terra la nostra mina è scoppiata come ha fatto un minato la mina? non si sa in realtà ha basso il genere che gli scegli non è questa domanda qui mi son fatto sta richiamando rinforzi e micro in arrivo ehi ti rialzo aiuto abbattiamolo se tutto va secondo i piani colpitelo duramente concentratemi su quel bersaglio schiero un drone di supporto prendo la mira chiuso il controllo mentale vai mi piccolo vai ucci blob attivo mentre lo usa ancora intrappolazione attivo il nostro blob è andato continuate così lo stiamo operando e stanno creando degli altri abbiamo perso un drone tra l'altro tra l'altro tra l'altro non mettilo qui e abbattetelo la torretta è una pezzi sembra di un po' di poi piazzate la torretta arma in azione abbiamo perso il controllo il nostro blob è andato merda eeeh 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 quindi eeeh ragazzi non avanza troppo che nemici ci fanno è veramente per quanto la voglia c'è 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 questa situazione c'è la stava alla assolutissima eeeh eeeh granata eeeh concentratevi su quel bersaglio ok questo dovrebbe aiutarci in un tanque manon qual'ha il fai scambio il muro non resisterò all'unno ah ah i forzi sono avanzando cosa facciamo e subito io vado perché si blocca chiamo un drone abbattetelo concentrate su quel bersaglio io nel mirino piazza una mitragliatrice lì ora gli sparo piazzate una mina lì la piazzata perché sono i piedi è pronto aiuto gradito qualcuno vi aiuti il trone li sta curando grazie chi che il tizio lì abbattetelo non risolveremo niente il tuo bersaglio sono dotati di scuoli perché non so ma è che si continua perché ben intuita la funzione la prossima e i cari attaccherei dopo non so non lo aiuto scudi andati questi droni sono decisamente utili ne ho beccato uno infatti e nemmeno allora ripararsi là dietro concentratevi su quel bersaglio colpitelo duramente concentratevi su quel bersaglio ricevuto abbattiamolo aiutalo un aiuto gradito tra quanto poi non arrivo 3 attenti muton vi ricordiziono quello è l'ultimo sono delle corazze roma testare attenzione per il giudice io organizziamo certi due secondi chi abbiamo con la scrista st abbattetelo non lo scrivete attacco il tuo bersaglio è praticamente un punto tutto sei ancora tutto allora gli sparo quindi apposta sempre sicura per te sarebbe dietro il problema che dubito e tu c'è il da dietro piazzate la torretta sono ferito arma in azione concentratevi su quel bersaglio sul tuo bersaglio ascolta mento sto recuperando blob attivo schiero un drone di supporto assoluto la tua mente è mia che è una brutta posizione cavolo piazzano attenzione un favore sono stavolta e in c che è aiuto ok attaccare confermato concentratevi su quel bersaglio abbatto comandante sei ferito vola non muoverti ti curo subito pronto per il secondo round comandante piazzate una mina grazie ne avevo bisogno grazie a perciò non ma che cazzo c'è in tutto ciò questo problema io sono attivato perché è la situazione quanto è grave io non gli ho detto di stare a mettersi agente quaggiù ti rimettiamo in piedi non sono ancora spacciata ci penso io un minuto sarà in piedi il loro culo non fa se tre quattro in piedi se potessi fare grazie sono ferito mi serve aiuto mi stanno avvicinando questo dovrebbe aiutarci eh schiero un blob se tu vuoi che ci si pensa nella bella la mina piazzate una mina lì mina piazzata richiedi le armi pesanti bombardamento in arrivo piazza una mitragliatrice lì ma torretta piazzata colpitelo duramente fuoco concentratevi su quel bersaglio sul tuo bersaglio attaccare la mia città hanno ucciso il nostro blob bersaglio confermato aiutami presto ti rimetterò in piedi non sono ancora spacciata bianco per la proposta il 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 se non c'è uno strano se c'è giù strano e ciò in casa ciò abbiamo in copertura tu c'è arco un salto Concentratevi su quel bersaglio! Sto puntando! Con il mio prediletto c'è chi, bravo. Sono pronto! Ognunque, sei vicino quante. Piazzate una mina! Mina piazzata! Eccola, ci sono questi ovunque. Grazie a lui, ma io appunto è qui. Di nuovo. Fuoco! Comandante a terra! Aiutami presto! Tieni duro! Penso io, comandante. Ti devo un favore, amico. Questi droni sono decisamente utili! Maledizione! Scusi! Quello sarebbe un'attivibile. Abbattetelo! Attacco il tuo bersaglio! Sono trovato la torretta. Uso il controllo mentale! Mi riposiziono! Ho trovato la torretta, ho trovato la torretta, ho trovato la torretta. Mi serve! Un medico! Maledico a terra! Ok, perchè ti ho cambiato la torretta. Sto recuperando! Quindi per finire la torretta, ho trovato la torretta. Sto avvicinando! E' quello che mi serve. Attaccare! Perfetto! 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 Attaccare! Lione il mirino! Torretta il sinistro! Ha interrotto il controllo mentale! Perfetto! 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 Io vado! Cioè, secondo lui, il paro non si mette mai il paro. Perfetto! 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 Ah si, da... La situazione è decisamente molto più spetta. Soprattutto perfetto, non è sciocco con una singola persona. Quindi, se guarda... Dio! Questa volta è il silvitero. Piazzate una mina lì! Piazzate la torretta! Mina piazzata! Perfetto, mi ha fatto vedere che ti avviciniamo. Fateli allontanare! Arma in azione! Ripolle scolare! Ma un'altra piazzata! Che almeno si ha fatto un... Solo ok. Fanno degli scudi! Ora, la speranza è che non ci dovremo a... Concentratevi su quel bersaglio! Attacco il tuo bersaglio! Attaccare! E non ci dovremo anzi messi! A 90 in uno! A riparo! Granata! Mi riposiziono! Sì! Salvataggio! Sì! Salvataggio! Ce l'abbiamo fatta! E mi sentoci! E mi sentoci! E mi sentoci! E mi sentoci! Tu non vuoi farlo! Ci distruggerai con te! E io... Lo farò! Edi lo vento! È ecc 여기까지! Allora.. Mi sentoci! E, quello che ho fatto... Arrenditi ora. E l'abbia anche... Ora è finita. E poi cos'è successo? La nave era nostra. L'Ethereo e io ci siamo collegati alla rete di Mosaico. Ogni esterno sulla Terra era sotto il nostro, sotto il mio comando. Il potere era sorprendente. Con il comando di Mosaico ho potuto costringere gli esterni a uccidersi tra di loro. Non si sono arresi. Sono morti. Dopo aver ordinato loro di massacrarsi, ho permesso alla loro ammiraglia di precipitare. La nostra gente ha smontato ciò che hanno lasciato indietro e distrutto ciò che non si poteva smontare. Ci pare di capire che l'approccio per nascondere i loro attacchi sia stato estremo. Non potevamo permettere che restassero prove degli esterni. Abbiamo conservato parte della loro tecnologia. Abbiamo molto da imparare. L'insabbiamento sembra aver funzionato. Le zone non demolite sono state isolate. Col tempo scompariranno del tutto dalle mappe. Non rimangono prove dell'invasione degli esterni. Nessuno saprà mai quanto siamo stati vicini all'estinzione. La bugia reggerà? Controlliamo i quotidiani. Tutti quelli che potrebbero rivelare la verità sono già morti o con l'X-COM. E gli infetti? Non avevamo scelta. Dovevamo sbarazzarcene. Anche se avessimo potuto curarli tutti, potevano ricordare qualcosa dell'attacco. È stato rapido e indolore. Molto bene. E l'altra creatura? L'Ethereo ha interrotto il legame dopo lo sterminio degli esterni. Stato, posizione e intenzioni sono sconosciuti. Capito, agente. Direi che è tutto per ora. Cosa sopprendente, ragazzi. Il finale con Fork non è così. Non so come definirlo. Perché dirlo bello è troppo complicato. Visto che la cosa che succede, ragazzi, è che lui li costringe e ricostruisce tutto e dopo li soppellisce. Cioè, praticamente, li soppellisce, li uccide, ragazzi, e lo soppellisce. Almeno, cosa inutile, l'ha fatto. Per l'insortino, mi ricordo, ciò mi è finita. Comunque, signora, ragazzi, ci trovi via. Ui! No? Campagne. Quindi, ragazzi, per vedere, ragazzi, è una campagna che ci sarà nel prossimo bisogno. Ovvero, ehm, il reparto di Cerc H... Cioè, non so che ho portato. H6. Che sono solamente, ragazzi, questo. Non ci faccio giocare, ragazzi, in meno di un'ora. Perché è effettivamente veramente molto noioso. Cioè, non è tanto molto noioso, però, insomma. Sono sostanzialmente le cose che voi dovete fare e compiere mini-missioni. Quindi, che restano due bisogni di episodio. Ma, va bene. Perciò, ragazzi, io vi saluto. E ci vediamo nel prossimo episodio di The Buttex.com. Ciao a tutti!